Sono in corso le indagini per ricostruire le cause che hanno originato la potente esplosione nell'abitazione in via Ponte a Barbarano Mossano, in provincia di Vicenza. Fortunatamente non ci sono stati feriti, ma la potente deflagrazione ha provocato numerosi danni e tanta paura. Divelti porte e finestre, corrottura dei vetri e rialzo del pavimento al piano sovrastante. Durante le fasi di intervento e soccorso, sul posto sono giunti i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza lo stabile, ma sono arrivati anche i carabinieri e il sindaco. Tra le ipotesi, una perdita di gas GPL all'interno dell'alloggio, inibito l'appartamento del piano dove è avvenuta l'esplosione e anche di quello superiore.